ciao a tutti benvenuti a casa mia e al canale itchodycook oggi prepareremo un piatto di pasta la volta scorsa vi ho fatto vedere la preparazione del pesto oggi faremo delle linguine al pesto e aggiungeremo fagiolini e delle patate alla fine per la mantecatura userò un po di pecorino romano allora gli ingredienti come vedete sono semplici sono delle linguine un gran formato pesto genovese fagiolini una patata e pecorino romano olio sale grosso per la pasta per la cottura della pasta e un po di pepe alla fine ora passiamo i fornelli all'induzione accenderò la teglia e quando comincerà a bollire metteremo dentro fagiolini e patate per la cottura una decina di minuti quando sono passati dieci minuti metteremo dentro la pasta che avrà bisogno ancora di 11 11 minuti 10 minuti e così andremo a scolare tutto quanto andremo unire qua il pesto con un po di acqua di cottura per allungarlo un po di olio uniremo tutto quanto e andremo la mantecatura con il pecorino l'acqua bolle mettiamo giù un po di sale caliamo le patate fagiolini adesso aspettiamo qui dieci minuti e dopo caleremo anche la pasta eccoci siamo arrivati alla cottura dei fagiolini e delle patate le raccogliamo che sono cotte mettiamo qua dentro e dopo andremo nella stessa acqua a calare la pasta le lasciamo qua basta oggi questa sera abbiamo abbastanza fame siamo in due ci sono tre atti abbondanti facciamo andare giù adesso calcoliamo qui dieci minuti e poi andiamo a finire il piatto ci siamo la pasta è pronta la assaggiamo ma sicuramente spegniamo allora prima cosa mettiamo giù il pesto ecco qua mettiamo un po di acqua di cottura recuperiamo il tutto andiamo a raccogliere la pasta e inserirla eccoci qua posto così e adesso prendiamo la mantecatura prendiamoci l'attrezzo giusto spegniamo pure anche questa allora un pochino così aggiungiamo l'olio e ancora un pochino d'acqua adesso andiamo a mantecare altra giratina eccoci qua prepariamo il piatto prepariamo il piatto facciamo qua così ecco tre fagiolini fagiolini patate eccoci eccoci qua allora linguine con pesto genovese fagiolini e patate ciao a tutti buon appetito grazie per i vostri like se vi è piaciuta la ricetta mettetelo pure grazie vi ringrazierò e alla prossima un saluto da Maurizio da casa mia e dal canale becchio di cook alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti